Ciao a tutti e benvenuti all'appointment tecnico con le notizie dell'ItalTechnicals World. Oggi parleremo di un nuovo ItalTechnical inverter, SirioUniversal. L'inverter tecnologia permetterà la modulazione del motore, in modo alla richiesta dell'acqua. Questo significa la pressione costante nel tuo sistema, con ogni uso. SirioUniversal integra tutte le funzioni tecniche di Sirio e Sirio Entry . Con un prodotto potete controllare due tipi di pump, la 3 fase 230V e la 1 fase 230V. Possiamo anche creare unità di pressurizzazione, collegando più invertori con l'altro. Il menu iniziale di start-up permetterà un'esercizio di SirioUniversal. I manuali di instruzione sono più intuitivi, grazie all'esempio di assemblazione. Il manuale di programma e servizio possono essere installato con i QR-codes presenti nel manuale di instruzione sul corpo Sirio. I parametri di programma sono aumentati per capire le necessità tecniche dell'installatore. È anche disponibile la versione di cable per connessione di single phase. Inoltre, grazie a connessione di Wi-Fi, puoi controllare il vostro drive remotamente. Con SirioUniversal puoi migliorare la performance e la funzionalità dell'elettronica. Vi ricordiamo che ci siamo a disposizione totali per tutte le informazioni sul nostro canale social e sul nostro sito. Grazie per la vostra attenzione e ci vediamo presto!